E' un film in costume, io sto facendo un provino per un film in costume, non un costume da barbie, un costume nel senso che era editato nell'Ottocento. Sì. Possiamo fare una foto? Certo, certo. Perché come mi ricapita la figlia di Giuliano Gelli? Lei cercava per un'occasione in particolare? No, non una in particolare, ma sicuramente non mancherà. Giuro, ti sto chiedendo sta cosa, è l'ultima cosa che ti chiedo, non ti chiederò più. Per assoluto mi puoi aiutare. La mamma del bambino? Molto. Buonasera. Tutti i ricordi giuri quel postrato che ci avevano in un'idea di noi. Una delle ultime proprietà che ci rimangono. Questi sono i soldi dell'affitto fino a Natale della casa di via Ussica. Cioè, un lavoro. Capito, capito, capito. Guarda, secondo me questa tomba è un monito per noi, che siamo le figlie d'arte. Ce la facciamo una cosa?